Allora mamma, qui che cosa hai messo? Allora ho messo 6,50 ml di acqua chiepita, un po' di olio di oliva e 3 cucchiaini di sale. Ok, poi? Poi aggiungiamo un chilo di farina, farina 00? Sì, e la mettiamo nella planetaria. Poi dei 650 ml di acqua ne ho levato un pochino e ho messo mezzo cubetto di lievito di birra e un cucchiaio di zucchero. Il lievito di birra questo è 25 grammi? Sì, e ora mescolo, faccio andare la planetaria, mettiamo la 2 per adesso. Adesso incorporiamo il lievito di birra dentro la planetaria. Dopo qualche minuto aumentiamo la velocità. Trascorsi i 5 minuti spegniamo e facciamo delle pieghe verso l'interno. Deve essere così appiccicosa. La copriamo con una pellicola e lasciamo almeno per un'oretta, quando ho raddoppiato il volume. Ora è raddoppiato di volume, adesso lo andiamo a stendere sulla teglia. Abbiamo diviso l'impasto in due. Dopo aver messo un po' di olio nella teglia, ho messo la pizza. E ora aspettiamo ancora un'oretta. Mettiamo un po' di pomodoro, pepe, basilico, un filo d'olio, sale e se vi va anche un po' di origano. E possiamo condire le nostre pizze. Per mio papà e per mio marito abbiamo messo cipolla, oliva, acciughe e melanzane e per noi margherita. Inforniamo a quanti minuti? Parti d'ora e a 180 gradi. Ok. Quando arriviamo a questa cottura vado a mettere la mozzarella. Grazie a tutti.